Ciao a tutti e benvenuti. In questo breve video rispondo ad Alessia, Luca, Gianni e altri di voi che saluto, i quali mi hanno scritto se potevo suggerire altri vocalizzi per poter percepire la voce sul fiato in avanti, alta, recca. Gli esercizi sono veramente tanti e ripeto vanno applicati di volta in volta in base alla persona che sia davanti. Comunque in linea generale altri esercizi che posso suggerire sono l'utilizzo della sillaba SO, ovvero la S cosa succede? Se noi proviamo a uscire molto fiato, molta aria libera, pensate questo fiato continuo e sentite come questo sibilo diciamo continuo si colloca proprio nella zona del palato anteriore. La O che va mantenuta con un'ampiezza orale ma con la tendenza a un sorriso, O, SO, vi aiuta a percepire questo suono. Potete fare i vocalizzi ad esempio sugli intervalli di terza, SO, 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 SO e così via. Oppure potete fare gli intervalli di quinta, SO, 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 SO e così via. Sentite subito la SO come proprio porta la O in avanti, in alto e come la voce appunto gira automaticamente, quasi va al massiccio anteriore, soprattutto nei seni paranasali, i seni frontali. SO, 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 SO. Utilizzate la S che vi aiuta molto. Ecco questo è un altro vocalizzo che può aiutarvi, è uno dei vocalizzi tra l'altro che utilizzava il grandissimo Tito Schipa. Un altro vocalizzo sempre che utilizzava Tito Schipa è la sillaba NO. Perché? Perché come abbiamo detto in altri video, la N porta il suono proprio nei risuonatori anteriori e quindi nei risuonatori paranasali, negli etmoidali, nei seni frontali. Potete esercitare la voce su intervalli, iniziate magari con intervalli di seconda. NO, 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 NO una o aperta e poi potete fare le terze le quinte e così via cerco di fare un video breve come mi avete chiesto vi suggerisco appunto questi vocalizzi che possono aiutarvi sentirete proprio come la voce mi raccomando lasciate andare in alto e avanti sentite che la lascio la elevo e la lascio andare avanti sfrutto la n come risonanza mi può essere di aiuto ad esempio l'idea del forellino ma non è necessario non è obbligatorio questa idea del forellino la n già vi porta no la voce in avanti no no va bene vi lascio vi mando un saluto mi avete chiesto un video molto breve spero di avervi accontentati di avervi dato delle indicazioni utili vi mando un saluto e a presto ciao